Io mi domando a me e anche vi domando a voi, ci lasciamo scrivere la vita, la nostra vita, da Dio o vogliamo scriverla a noi? Papa Francesco, celebra in Santa Marta, ispirato dal racconto biblico di Giona nella sua omelia, affronta il tema della fuga da Dio, una tentazione che spiega può insidiare tutti i credenti, compresi i sacerdoti, i vescovi e persino il Papa. Questo accade perché non si ascolta la voce del Signore, mentre può capitare che proprio i peccatori siano i più disponibili ad accogliere il suo invito. E questo ci parla della docilità. Siamo docili alla parola di Dio? Sì, io voglio essere docili, ma tu hai capacità di ascoltarla, di sentirla? Tu hai capacità di trovare la parola di Dio nella storia di ogni giorno? O le tue idee sono quelle che ti regono e non lasci che la sorpresa del Signore ti parli. E commentando il Vangelo del buon samaritano, Francesco ricorda che l'unico modo per non fuggire allo sguardo e alla parola di Dio è tenere aperto il cuore.